Ciao e bentornato sul mio canale dedicato al digital marketing, io sono Fabio e oggi voglio parlarti di WALAXY Prima di proseguire però, iscriviti al mio canale, accendi la campanellina così potrai ricevere tutti i miei aggiornamenti Cos'è WALAXY? Come puoi vedere dal mio monitor, contattare 100 potenziali clienti a settimana in soli 10 minuti al giorno In realtà anche di meno perché una volta che hai avviato le campagne LinkedIn E vada bene non parlo delle campagne pubblicitarie di advertising sulla piattaforma di LinkedIn Ma parlo di un sistema che funziona tramite un sistema esterno che funziona sfruttando la piattaforma di LinkedIn Ora, come funziona? Per 0 euro al mese? Sì, anche hanno un piano gratuito, poi lo andremo a vedere, ma in realtà ci sarebbe qualcosina da pagare Faccio subito un ragionamento Le campagne pubblicitarie, quelle a pagamento su LinkedIn, partono da 10 euro al giorno Con 4-5 giorni di campagna pubblicitaria ti sei pagato un mese di abbonamento a WALAXY se fai l'abbonamento annuale E credimi che conviene, te lo dimostro subito Come funziona? Andiamo alla pagina del login Il login ti viene chiesto subito di aprire una scheda di LinkedIn Perché non fai un vero e proprio login che ti registri Ma lui prende i tuoi dati direttamente dal tuo profilo LinkedIn Quindi vado ad aprire la mia scheda E me ne torno su LinkedIn, sì, su WALAXY E mi viene caricata la mia dashboard Ora, che cos'è WALAXY? È un sistema di campagne, di targeting e di campagne automatizzate su LinkedIn E sfrutta la ricerca di LinkedIn per cercare i tuoi prospect Sfrutta le richieste di amicizia, gli inviti Sfrutta la messaggistica, sfrutta le informazioni che trova direttamente sui profili LinkedIn Delle persone che rientrano nel tuo target Questo è un aspetto importantissimo dal punto di vista del GDPR Perché sostanzialmente per te è uno scarico totale di responsabilità Nel senso che queste persone che tu vai a disturbare, tra virgolette Con i tuoi inviti, con i tuoi messaggi Non stai facendo nulla di strano Perché è una cosa che faresti manualmente tramite il social E senza che nessun problema Perché la privacy, diciamo, è che è a carico di LinkedIn E il procedimento è lo stesso, solo che Wallaxi te lo fa automatizzare E vediamo bene come Tieni presente che lo sto usando da veramente una settimana Tanto per capire, ancora l'ho testato poco Sto facendo questo video perché ho capito i concetti E via E mi hanno già risposto a 192 messaggi E ho acquisito un cliente per la mia azienda Ne sto trattando un altro E mi arrivano risposte ai messaggi Magari anche, guarda, grazie, ma non siamo interessati Oppure mi arrivano delle telefonate Perché ho lasciato il mio numero di telefono Su base quotidiana E questo è fantastico Non succede mai neanche tante volte Con le campagne, con le migliori campagne pubblicitarie A pagamento E tutto incluso nel piano di Wallaxi Io ho un piano business Come puoi vedere qui Poi andremo a vedere i prezzi Andremo a vedere i benefici che hai Utilizzando i miei link Nella descrizione di questo video E nel mio blog Se stai nel mio blog Questo scendendo è Le azioni che sono state inviate Tra inviti Quindi quando tu decidi Di invitare qualcuno A entrare in collegamento Inviti quelli standard Che vengono consentiti Limitatamente ogni mese Da LinkedIn Ci sono i messaggi Che sono stati inviati Ovviamente qua io ti sto parlando Di 10 giorni di lavoro Forse anche qualcosina di più Tieni presente Che c'è sempre Un limite A tutte le azioni Che Wallaxi compie E ti vengono Poi le andiamo a vedere Ti vengono Sono chiare Perché rispettano Le regole ovviamente Di LinkedIn Quindi non corri mai Il rischio di fare qualcosa Che non puoi fare Perché quando vengono Raggiunti i limiti Wallaxi si ferma E aspetta O il giorno dopo O il mese dopo Addirittura Se hai finito Le tue disponibilità Come puoi vedere Nella dashboard principale Ci vengono ovviamente Elencate Un po' di statistiche Relative A le azioni Che sono in State compiute Quelle in attesa Relativamente anche A quello che accade Ovviamente Su LinkedIn Ma anche Via email Perché questo sistema Ha anche Una campagna Specifica Che poi andremo A vedere Che consente Di fare una ricerca All'interno Dei tuoi Dei prospect Selezionati Poi vedremo Come selezionarli Come portarli dentro E andare a capire Se questi contatti Hanno reso disponibile L'indirizzo email E Wallaxi Manda direttamente Un'email Dal tuo indirizzo Di posta Gmail Ad esempio Se usi Gmail O qualsiasi altro SMTP Che puoi collegare Dentro a Wallaxi Cosa che io Ancora non ho fatto Perché sto testando Ancora esclusivamente Il lato LinkedIn Di questa Piattaforma Andando avanti Come puoi vedere Qui sulla sinistra Abbiamo Casa È tradotto In tutte le lingue Ma è tradotto In automatico Quindi qualcosina Non è tradotto A proprio bene Insomma ci può stare È molto comodo Che già hai tutto In italiano Comunque Abbiamo quindi La home I prospect Le campagne Messaggi su LinkedIn E la coda Che vuol dire Allora i prospect Sarebbero Ecco Come puoi vedere Qui Abbiamo un elenco Di vari prospect Che Stiamo utilizzando Anche Con Sanchez Consulting Con il direttore commerciale Per Andare ad individuare I proprietari Di aziende Nella regione Lazio Ovviamente Tutto in fase Sperimentale Stiamo testando A quanto pare Funziona E Uguale abbiamo fatto Managing director Lazio Più tre Cioè Il livello Terzo livello Di collegamento Non primo Secondo Ma terzo Addirittura Quindi siamo sicuri Che non li conosciamo Ecco In un certo senso Abbiamo ancora Direttori Lazio Poi Ho Portato dentro Alcuni Prospect Da un gruppo All'interno del quale Io sono Iscritto Tra l'altro La cosa molto interessante Dei gruppi Che a differenza Dei cento inviti Che tu puoi mandare Ogni mese A seguire La tua pagina La tua azienda Se con queste persone Condividi lo stesso gruppo Puoi mandare Fino a settecento inviti Di messaggio Richieste di messaggio Ogni mese È una campagna Che ancora non ho testato Ma lo farò Al più presto Perché ovviamente Mi sembra una campagna Molto interessante E così Dicendo Per quanto riguarda I prospect Come puoi vedere I prospect Ti vengono date Subito Delle informazioni Cioè Lo stato attuale Che tu hai Con Un prospect In particolare Ad esempio Questo qui Abbiamo Sia il collegamento E lui ha disponibile Un indirizzo email Non condividiamo Stessi gruppi Non condividiamo Stessi eventi E via dicendo E Di qua Ti dice Quali azioni Invece Sono state Svolte Nei confronti Di questo Di questo Di questi prospect Qui Come ad esempio In questo caso Gli è stato Inviato L'invito E gli è stato Anche inviato Il messaggio Dalla campagna In automatico Poi andremo a vedere Tutto quanto Perché è veramente Una figata E Ovviamente Qui puoi Filtrare E cercare Tutti quelli Che ad esempio Hanno un'email O che non ce l'hanno Puoi fare Determinate ricerche All'interno Dei prospect Ora la domanda Sorge spontanea Come portiamo Dentro Questi prospect La cosa È semplicissima Allora ti permetto Che per gli account Gratuiti Di linkedin Come il mio Io non ho Un account premium Ci sono delle limitazioni Sulle ricerche Che vuol dire Che dopo un po' Che cerchi Sul linkedin LinkedIn ti mostra I primi 10 20 risultati E ti dice Guarda per avere Ulteriori ricerche Questo mese Ti devi abbonare A premium Quindi ora non so Se mi funzionerà Perché già C'ho smanettato E oggi è anche Il 30 del mese Quindi non so Se mi farà cercare Però ti faccio vedere Qual è il concetto Che è molto semplice E poniamo il caso Che io voglio Cercare Vediamo Sì Amministratore E già ho una ricerca Qua Amministratore Delegato Persone Seleziono Quindi come vedi Utilizzo Direttamente Il filtro Di Linkedin Per fare le ricerche Il grado Mettiamo Il secondo Mettiamo Una località Che può essere Sempre la solita Buona regione Lazio Visto che è la regione Dove noi ci muoviamo Di più E a questo punto Ho una mia Ricerca Con dei prospect Che comunque Sono amministratori Delegati Di aziende Di non so che natura Perché non ho specificato Un settore Potrei farlo Ma adesso Per semplificare Non lo farò E ho semplicemente Detto il livello Di Parentela Se vogliamo E la regione Dove mi interessa Andare A cercarli A questo punto Come puoi vedere Qui c'è un'estensione Di chrome Fornita da Wallaxi stesso Che puoi installare E questa serve Proprio per fare L'importazione Dei prospect Che tu hai trovato Tramite la ricerca Direttamente Su Linkedin Quindi Mi viene chiesto Di selezionare Il membro Da Insomma La persona Alla quale vuoi Associare questi contatti E ti spiego perché Perché puoi avere Delle licenze Su Wallaxi Che sono molti utenti Noi ad esempio Ne siamo in due Siamo io Siamo Luigi Che è il mio direttore commerciale E quindi Io potrei anche Volendo Inserire Il Il prospect Su Luigi Direttamente Sul suo profilo E questa è una cosa Molto comoda Ha inoltre Un filtro di sicurezza Per evitare I duplicati Di squadra Che vuol dire questo Che se Luigi Sta lavorando Anche lui Su una ricerca Amministratori Delegato Persone Di secondo livello Nella regione Lazio Se io ho Attivata Questa Spunta Se lui ha già Importato Una serie di prospect Che ho trovato Anch'io nella mia ricerca Non verranno Importati di nuovo Questo ovviamente Perché Così si evita Di sparare Due volte La stessa campagna O due campagne diverse Comunque Trove niente Della stessa azienda Alla stessa persona E Poi mi viene chiesto Dove Quale lista Voglio Utilizzare Per importare I miei prospect Non mi sembra Che qui Abbiamo Una Amministratore Delegato Quindi ne creo Una nuova E la chiamo Amministratori Delegati Secondo livello Lazio Secondo ci mettiamo Due qua Così E lo creo Quindi lui adesso Mi ha creato la lista Che poi mi troverò Dentro Wallaxi E posso importare Un massimo Di mille Candidati Per volta E quindi Convalido E lui adesso Sta Come puoi vedere Si è messo A fare una Scansione E Se Guardi bene Già mi dice Che ha scansionato Dieci persone Ma ne ha Aggiunte Dieci E ne ha Zero Di duplicati E così Andrà avanti Piano piano Mi dirà Quindi fa sempre Un controllo Per vedere Se Nel mio account E in quello Del mio collega C'è Quella Persona E verrebbe In ogni caso Scartata Mi viene Dopo Iniziata La Mi viene Chiesto Dopo iniziata Dopo iniziata La ricerca Mi viene chiesto Direttamente Dall'app Di Wallaxi Se voglio Inserire Questi Prospect All'interno Di una campagna Che io Già Ho Oppure Creare Una nuova Campagna Allora La campagna Non la creo Nuova adesso Ma te lo faccio Vedere dopo Ma intanto Gli dico Che voglio Inserire Questa Lista In Una campagna Che è Invito Più due Messaggi Che già sta Andando Che è l'unica Campagna Che ho in piedi Che è quella Tra i vari test Che mi è sembrata Più Azzeccata Quindi Gli dico Ok E lui Procede Ha aggiunto Questi contatti Alla campagna E li aggiungerà Man mano Che li scansiona Ovviamente Come puoi vedere Ha trovato Un duplicato Che ha scartato Non so dove L'ha trovato Adesso ne sono due E così dicendo Mentre lui va Tornando a Wallaxi Ci porta Ci apre una finestra Che ci dà La stessa informazione Questa starà Accesa Fin tanto Che lui Importa Questi prospect E come puoi vedere La scheda Amministratori Delegati Piano piano Si sta Popolando Dei prospect Che abbiamo Selezionato Questo intanto Lo chiudiamo Lo facciamo Lavorare In background Ovviamente Anche se chiudo Continuo a lavorare E quindi Abbiamo capito Come Da LinkedIn Di importarci dentro Tutti Questi Bei potenziali Contatti Interessati A quello che facciamo Insomma Noi lavoriamo Con aziende Nel B2B Tendenzialmente L'amministratore Delegato Dovrebbe essere L'amministratore Delegato Di un'azienda Certo Molto semplicistica Questa cosa E spara Molto ad ampio raggio Fatta così Ma tieni presente Che puoi stringere Molto il campo D'azione E Veramente Concentrarti Solamente Su delle Verticalità Su delle Persone Specifiche Volendo Che puoi importare Una Per una Nelle tue liste Andando avanti Possiamo andare a vedere La sezione Dedicata Alle Campagne E qui mi viene fornito L'elenco Delle campagne In questo caso Questa è la campagna Che abbiamo visto Prima Nella Nell'app Di Chrome Che sta Camminando E ha Una Coda Di 1662 Contatti Che vengono Utilizzati Che vengono Invitati I quali viene Mandato un messaggio Poi ti faccio vedere Bene la dinamica Di questa campagna Un po' per volta Ripeto Ci sono dei limiti Imposti da Linkedin E per fortuna Che è così Se no diventeremo Veramente Dei Spanner Fastidiosi E in più Ho una sezione Dedicata Qui mi fa vedere Tutte le Campagne Che ho messo in pausa Quelle che Le bozze Quelle che ho Fermato Eccetera E in più Qui ho Una sezione Dedicata Ai messaggi Cosa Si intende Sono dei template Di messaggi Che io posso Raccogliere tutti In questa sezione Per poi utilizzarli Nelle varie Campagne Quindi posso Crearmi un modello Di messaggio E poi portarmelo Detro Già preconfezionato È veramente Molto ben fatto E molto veloce E posso gestire I messaggi Posso gestire I messaggi Di invito Anche se Sconsigliano Loro stessi Di modificare Il messaggio Di invito Di default Di Linkedin Che credo Che non ci sia proprio Quindi di aggiungere Un messaggio Di invito Dicendoti che Il tasso di conversione Di accettazione Degli inviti È più alto Del 10% Questo lo dicono loro Poi non so se è vero Comunque Io non ne ho messo Neanche uno Al contempo Puoi avere dei template Per i messaggi Via email Perché ripeto Questa è una piattaforma Multingaggio Passa Sia direttamente Per la messaggistica Di Linkedin E non solo Perché fa anche Delle azioni Sui post Puoi commentare Puoi mettere Mi piace Puoi fare un sacco Di roba Per farti vivo In maniera In maniera In maniera automatica Ma al contempo Esce fuori Da Linkedin E arriva Direttamente Nella casella Di posta Qualora Venga trovato L'indirizzo email Di questa persona Se lo mette a disposizione Che è una cosa Fantastica Veramente Uno dei miglior Tool Di lead generation Che io abbia mai visto Lavorare Ne ho recensiti Qua sul mio canale Già diversi Tornando un attimino All'elenco Delle campagne Voglio farti vedere Questa campagna Come vedi Invito Più due Messaggi E questo è L'andamento Che ha Ha inviato 1468 Inviti 478 Messaggi E come puoi vedere Qui C'è anche Il tasso Di risposta Che ottengo E comunque Tutti i giorni Mi rispondono Due Tre Una Due Tre Persone Se ci pensi Tutti i giorni Su base quotidiana Io ogni settimana Faccio una media Di 20 30 contatti Che comunque Vengono a conoscenza Di Fabio Della Sanchez Consulting Di quello che faccio Eccetera Eccetera Semplicemente Tenendo questa campagna Accesa E ovviamente La sto Utilizzando Ancora in fase beta Perché ci sono oltre 60 tipi Di campagne Non le puoi I funnel Diciamo che sono dei funnel Non te li puoi costruire da solo Sono preconfezionati Forse in futuro Faranno in maniera tale Che tu potrai Gestire da solo Tutti i tasselli Del funnel E farti la tua campagna Automatizzata Ma loro ne caricano In continuazione Di nuovo Sono Due settimane fa Ce ne erano 40 Ora sono quasi A 60 tipi diversi Ne ho testate tre Quindi C'è veramente Da fare Tanto E Qui ti dà Altre statistiche Qui di fianco Hai La tab Dei prospect E puoi vedere Quali sono le persone Che Hai In qualche modo Targettizzato E con le quali Hai Innescato Delle azioni Tramite In questo caso Tramite Linkedin E ora Volevo farti vedere Cliccando qui Ci fa vedere Il modello Di questa campagna Ripeto Sono modelli Prestabiliti Io non l'ho creato Io l'ho trovato Bello E fatto Semplicemente Inserito I contenuti Da inviare Come funziona Questa campagna Vediamo se me la fa Ingrandire un pochino Ecco Lo posso muovere Allora C'è ovviamente La sorgente Il punto di partenza E È l'inizio Del funnel Se vogliamo Quindi Parte tutto Dai prospect Ovviamente Devi avere Delle liste Ok E come funziona Allora Allora se Lui prende Questi contatti Che tu hai Insepito dentro Se si accorge Che di questi contatti La persona in questione Non è collegata Lui esegue le seguenti azioni Quindi manda L'invito Al collegamento Poi aspetta E valuta Se si collega C'è un ritardo Di un giorno Aspetta Di valutare Se si collega Se è collegato Fa la seconda valutazione E manda un messaggio Il primo messaggio Poi attende 5 giorni Se non ha ottenuto Risposta Manda un secondo Messaggio Poi attende 7 giorni Se non c'è stata Risposta Cessa la campagna Al contempo Se si accorge Che Questa persona Non ha Risposto Al collegamento Dopo 15 giorni Cessa la campagna Ora Questo che vuol dire Che Io ho messo Su un sistema Che automaticamente Basta che lo alimento Con i prospect La campagna È sempre quella Adesso ho preso Altri Mille prospect Ne saranno un po' di meno Perché tanti saranno duplicati Ma mettiamo 600-700 prospect Vengono inseriti Dentro la stessa campagna Che ovviamente Ha dei tempi lunghi Per andare Non è che partono Uno ci mette tanto A importare Perché Dici vuole mezz'ora Per importare Dentro i mille prospect Più o meno E Poi Se andiamo a vedere A questo punto La coda Salto i messaggi Di linkedin Perché ancora non sono attivi Poi ti faccio vedere Cos'è La coda Mi dice Allora Che innanzitutto Mi dice che ho raggiunto Oggi è il 30 maggio Fine mese È inevitabile Che io abbia raggiunto Tutte le Le quote O quasi Mi dice però Che Sta Inviando Degli inviti E ne hai Una quota Di 89 Al giorno Al momento Ne ha mandati Tre E tra qualche secondo Ne manderà altro Tra tre minuti Ne manderà un altro Ancora E via dicendo Mi dice che Oggi ho inviato 46 messaggi Di 133 E ne puoi inviare Ancora 87 Mi dice inoltre Altri numeri Di cose Che io non sto facendo Ad esempio Profili da visitare Ci sono tante campagne Su Wallaxi Tra cui anche quelle Destinate Semplicemente Alla visita di un profilo Perché Gli account Premium Possono vedere Ovviamente Chi Visita I propri profili Quindi se io mi voglio far vivo Nel profilo di qualcuno Posso dire a Wallaxi Di visitarmi Tutti i prospect Di una lista particolare Perché Voglio che loro vedano Che io ho visitato Il loro profilo Ecco Per dirci Così E Posso Seguire Dei profili No E posso Inviare Fino a 500 email Al giorno E Trovare 500 email Al mese Quindi Perché ad esempio Ha una campagna Di Email Finder Specifica E tu gli metti Sempre la solita lista Di prospect La campagna Semplicemente Deve scansionarli Alla ricerca Dell'indivizio email Qualora venga Trovato L'indivizio email Puoi inserire Questo prospect In un'altra campagna E Ad esempio Inviare Un email Probabilmente Anche dalla stessa campagna Una volta trovata l'email Gli manda Un messaggio Nella casella Di posta elettronica Andiamo a vedere L'ultima scheda Che non ti ho Fatto vedere Semplicemente Perché vedi Come c'è scritto qui In arrivo Messaggistica Linkedin Da Wallaxi Qual è il punto? Questo sistema Come avrei capito Vive soprattutto Dei messaggi Che si mandano Internamente Alla messaggistica Ok? Messaggi Automatizzati Ma che credi Mi arrivano Come per reali Me ne accorgo Perché Quando spiego Alle persone Che mi rispondono Magari facciamo Una telefonata O mi telefonano Direttamente E gli spiego Che quel Suo comportamento Quindi che mi ha risposto Mi ha telefonato Che comunque ci siamo messi in contatti Era frutto Di una campagna Della quale io Non sapevo nulla Perché tanti mi dicono Fabio Sì mi hai scritto Scusami Guarda È una campagna automatizzata Ma come è una campagna automatizzata? Eh sì È una campagna automatizzata Che evidentemente funziona Perché le persone Che rimangono abbastanza stupite Si pensano che io veramente abbia scritto io di mio pugno Perché ovviamente Tutti i messaggi sono personalizzati Adesso facciamo una simulazione Della campagna Così ti accorgi bene Di che si tratta E comunque Rotando tutto attorno ai messaggi Loro tra poco faranno in modo Che tu direttamente da Wallaxi Potrai gestire la messaggistica Senza dover tornare sempre su LinkedIn Perché Mi sono reso conto Che dopo un po' I messaggi Nella messaggistica Di LinkedIn Te li perdi E infatti Qui vedi Questo è uno che mi ha risposto Grazie ma non sono interessato Al tema Saluti Ovviamente tanti sono così I messaggi Però Quest'altro ecco Anche Grazie Fabio Ne parlo internamente Le faccio sapere Ok E sono tutte persone Che si pensano Che io abbia scritto Loro Un messaggio Quando non è Non so proprio Chi siano E lo vengo a sapere dopo Ora Tornando a Wallaxi Facciamo Iniziamo una nuova campagna Quindi facciamo così Campagne Elenco delle campagne Crea nuova campagna Qui ti dà Anche da qui Ce l'hai la stessa cosa Un riassunto Una selezione Diciamo Delle campagne Che sono Più in uso Che sono Quella di semplice invito Tu mandi Escrivamente un invito Oppure quella che sto facendo io Che è un invito Più due messaggi Con quelle caratteristiche La scadenza Dopo il primo giorno Poi se non risponde Dopo cinque giorni Un altro messaggio Oppure il messaggio diretto O meglio La richiesta di messaggio Ma qualora Tu sei All'interno Dello stesso gruppo O Dello stesso evento Su LinkedIn E E questa è la funzione Invece che ti dicevo Di email finder Quindi Visita il profilo Scansiona E vede se c'è un indirizzo email E te lo mette Da una parte O comunque te lo segnala Come indirizzo email O comunque Gli puoi far inviare Un email Direttamente dal sistema Oppure puoi sfogliare Le altre sequenze Uguale Hai da qui Andiamo a sfogliare Qua ultimo usato Ci fa vedere un po' Quelle che abbiamo usato Ultimamente Queste sono tutte Le Ah Ne sono cresciute tante Guarda Sono arrivati a più di 99 Sì perché praticamente Tutti i giorni Caricano Qualcosa E quindi hai Una selezione Di campagne Veramente Importante E Per ogni Tipo di Campagna Questa ad esempio Ti fa vedere L'anteprima Questa è una campagna Tipo quella Che sto facendo io Ma con un messaggio solo Senza il secondo messaggio Però mi sono accorto Perché l'ho provata prima Che col secondo messaggio Converte il 20% In più delle persone E ti rispondono Perché si sentono in colpa Dico Vedi che carino Mi ha riscritto Ovviamente C'è un po' di comunicazione Dietro Ma gli mandi un messaggio così E comunque Ti rispondo E torniamo alle sequenze Quindi come puoi vedere Questi sono i consigliati Quelli usati Principali Linkedin E più email Queste devono essere fantastiche Quando le testerò Magari Ti faccio sapere O se le hai testate Tu fammelo sapere Nei commenti Qui sul canale E Come puoi vedere Vedi Visita Più connessione Più email E messaggio E queste incominciano a essere Vedi livello 3 Infatti Perché hanno diviso Queste campagne Per livelli di difficoltà Perché è chiaro Che bisogna anche capirle Un attimino Prima di farle funzionare Non è che prendi e fai Non è sempre così Immediato Infatti se vai a vedere L'anteprima di questa Ti puoi accorgere Che è una campagna Abbastanza Abbastanza Delicata Vediamo Poi c'è una visita Poi c'è un ritardo Poi se non è collegato Manda l'invito Se si collega C'è un ritardo Messaggio E email Più Abbiamo un po' Collego Collegato E ritardo Cinque giorni Un altro messaggio Un altro email Collegato Questa è una sequenza Molto più lunga Ogni cinque giorni È un funnel Praticamente Che manda sia Un messaggio Sul linkedin Che un email Nella casella Di posta E con ovviamente Un recupero Di sette giorni Attesa Ritardo Cerca l'email E fa partire Una campagna Esclusivamente Di email Marketing Quindi sono Praticamente Due campagne associate Una diretta Ibrida Se è collegato Se non si collega Vede se c'è un email E lo va a ricercare Sulla casella Di posta elettronica Quindi c'è veramente Una vastità Di campagne pubblicitarie Che puoi avviare Sfruttando Sia linkedin Sotto Diverse Forme Ecco ad esempio Questa È quella Della richiesta Di messaggio E questa è importante Perché ne puoi mandare Fino a settecento Devi solo essere Parte di un gruppo Di avere un gruppo In comune Con questa persona O un evento In comune Però insomma La cosa non è difficile Basta iscriversi Poi tu porti dentro I prospect Tutti quelli Un migliaio Di quelli lì Che stanno insieme Con te Nel gruppo E puoi mandargli La richiesta Di messaggio E questa è buona Perché non c'è bisogno Neanche del collegamento Dell'invito Ok Concludendo Allora ti dico una cosa Questa è una start up Io ovviamente Ho acquistato La mia licenza Già da tempo Ogni tanto Succede che Da qualche problema Che magari qualcosa Non funziona Perfettamente Gli salta una traduzione Cioè un po' Ci può stare Però devi sapere Che è una start up Quindi hanno Ancora i prezzi Contenuti Perché poi Un applicativo così Insomma Fatti un paragone Di quanto costa Una campagna pubblicitaria Sul LinkedIn Minimo Parti da 10 euro al giorno Quote a settimana Non al giorno Tutte le limitazioni Del caso Diciamo che Da 20 euro al mese Se paghi annualmente Perché poi puoi pagare Anche un mese solo Per provarlo O ogni tre mesi O ogni 12 mesi Ovviamente Più soldi Gli dai Più risparmi Io ho preso Quella più popolare Cioè per il business Questa qua Da 64 euro al mese Ho pagato un anno E però Abbiamo Veramente Tutto aperto Con caratteristiche Di LinkedIn Più email Cosa che gli altri Non hanno Quindi il discorso Di poterci collegare Il tuo SMTP E inviare delle email Dal tuo indivizio Di posta Anche se è Gmail Anche se è Google Workspace O qualsiasi altra cosa E Hai fino a 700 Quote a settimana Relativamente Ai messaggi All'invito Di messaggio Vedi Send up to 700 Invitation Messages E Questa è veramente Una Grandiosa La devo testare ancora Ma è ovvio Che è una delle prossime Che farò Puoi sincronizzare Cosa io Non sto facendo Perché uso un CRM Che non Lo posso sincronizzare O meglio Dovrei passare Per i soliti Zapier Ma non mi interessa Perché riesco di rimanere qua Al momento Ovviamente Puoi importare Automaticamente Questa è una cosa Che non ti ho fatto vedere Te la devi far vedere Cioè tu puoi dire A una campagna Ogni tanto Di fare una ricerca Sul LinkedIn Oddio di proseguire Una ricerca Che tu hai già fatto Sul LinkedIn Se trova dei prospect Se trova dei prospect Novi Devi buttarli Dentro la campagna Non l'ho fatto Ancora Semplicemente Perché è talmente facile Portarsi dentro Migliaia di prospect Che poi ci mettono Giorni ad essere smaltiti E quindi Ogni tanto Lo faccio manualmente E così Ha la funzione Di trovare L'email Che è l'unico Piano Che c'è là E che secondo me È molto importante E chat dal vivo Con persone reali 6 su 7 Di non so Cosa sia Questo qua Dorrei andarlo a vedere E altra cosa importante Sono il Il piano Di squadra Che vuol dire Che tu puoi Allora questo è il prezzo Autente No Ma io qui Ho ad esempio Squadra Io ho preso Tre utenti Quindi ci sono io C'è il buon Luigi E un altro Ce l'ho Disponibile E lo utilizzerò Per Un'altra persona Che magari Verrà a collaborare Con noi E ho ritenuto Che tre Sono più che sufficienti Perché è veramente Un bella Potenza di fuoco E quindi Da qui Puoi decidere Quale Pacchetto Acquistare E Quale Modalità Quale Quanti Ovviamente Utenti Mettere All'interno Quando fa fino a 50 Ma insomma Poi parliamo di Grande aziende Chiaramente che Hanno 50 Commerciali Che sanno usare LinkedIn Che lo utilizzano Come andrebbe fatto E quindi Puoi procedere E registrarti Anzi Non ti registri Perché basta Che fai login Con LinkedIn Poi ovviamente Devi dare i dati Della carta di credito E pagare Per Sfruttare al massimo Il potenziale Di questo Strumento Io posso dirti Una cosa Che se sfrutti Il link Che trovi Qui in descrizione O sul mio blog Se stai Vedendo questo video Dal mio blog Hai diritto Per il primo anno Al 20% Di sconto Mi fai guadagnare Qualche soldino A me Ma tu ti becchi Anche il 20% Di sconto Per il primo anno Insomma Hai visto che Se fai un acquisto Con tre licenze Quello business Vai a spendere Un po' di soldini E comunque Il 20% di sconto Non fa mai male Bene Io sono giunto Alla fine Se questo video Ti è piaciuto Metti un bel Mi piace E soprattutto Inizia a seguire Il mio Canale Quindi iscriviti Accendi la campanellina Per avere tutti I miei futuri aggiornamenti E se vuoi provare Wallaxi Puoi farlo Comunque gratuitamente Perché l'iscrizione È gratuita Se sfrutti Il link Che trovi Qui in descrizione O sul mio blog Arrai diritto Al 20% Di sconto E se non trovi Il 20% Di sconto Quando farai L'acquisto Scrivimi Contattami Perché ti do Un codice coupon Da inserire Al momento Dell'acquisto Noi ci vediamo Presto Sul canale Un ciao Da Fabio Noi ci vediamo Noi ci vediamo